Una buona giornata cari amici, ben ritrovati, abbiamo da commentare un weekend di campionato potentissimo perché c'è stato il derby di Milano e lo ha vinto l'Inter 3-0, il primo vero crocevia scudetto ha gridato la parola Inter, è una vittoria che dà una botta alla classifica perché 4 punti per la squadra di Antonio Conte di vantaggio sul Milan sono significativi, non sono definitivi, mancano 15 giornate c'è ancora un'immensità di punti in palio però il messaggio che è emerso da questa partita e in generale da questo momento è il messaggio che mette giustamente davanti a tutti l'Inter, che pone il Milan di fronte a uno specchio perché comunque il Milan deve autovalutarsi in questo momento dopo una serie di riscontri negativi che non cancellano niente ma risettano molto e parleremo della partita nello specifico di quello che ci ha detto parleremo però anche di tutti gli altri temi di questa giornata di campionato aperta venerdì dai due confronti salvezza con la vittoria della Fiorentina e la vittoria del Torino e di questo abbiamo parlato con un video dedicato dopodiché c'è questa corsa al quarto posto, terzo quarto posto, stasera gioca la Juventus e la Juventus comunque ha ancora delle chance in mano non solo di chiaramente lottare per le prime quattro posizioni ma anche di rimanere in questa lotta per lo scudetto perché comunque guardate la classifica se la Juventus stasera batte il crotone e vince il recupero con il Napoli è un punto dal Milan il che vuol dire che nessun gioco è chiuso in nessun ambito però in questa lotta al quarto posto si cominciano a pesare certe situazioni Atalanta-Napoli è stata una partita estremamente emblematica di quali siano in questo momento i rapporti di forza la Roma ha sprecato un'occasione per la prima volta contro una tra grandissime virgolette piccola la Lazio invece il suo dovere lo fa e ha battuto la Sampdoria ci sono stati anche risultati che danno della continuità a quelle che sono le sensazioni che appunto vi comunicavo nel video sulla lotta salvezza perché il Parma ha buttato via una possibilità gigantesca di mettersi in moto di cambiare ancora la geografia delle zone basse e le possibilità buttate via dal Parma cominciano ad essere tante ci sono stati anche i pareggi fra Sassuolo e Bologna una partita segnata e lo hanno detto entrambi gli allenatori da una situazione che poteva essere diversa c'è stato il 2-2 fra Genoa e della Sverona una partita che mi è piaciuta mi sono divertito parleremo anche di questo insomma parliamo di tutto il weekend di campionato con un focus ovviamente particolare sul derby entrando in una settimana che ci porta ancora a grande calcio internazionale perché ci sono Atalanta e Lazio che giocano in Champions League e vi ricordo abbiamo deciso allora di vederci insieme il secondo tempo di Atalanta-Real Madrid per cui mercoledì sera faremo una live qui sul nostro canale a partire direi dalle 21.50 cosa dite? ci troviamo durante l'intervallo facciamo il punto sul primo tempo apriamo anche la possibilità di interagire molto perché mi interessa la possibilità di dialogare con voi durante la partita proprio come se la stessimo vedendo insieme vediamo il secondo tempo e facciamo il punto alla fine è un esperimento spero che vi piaccia questa idea che ci è venuta tra l'altro vi presenterò anche qualcuno nel corso di questa live insieme per seguire Atalanta-Real Madrid vi ricordo anche gli appuntamenti sulla sezione premium perché ho fatto un dialogo dal mio punto di vista veramente bello e profondo con Marcello Lippi ma anche per questa settimana ho intenzione di portare un personaggio molto interessante bene, il programma per la settimana è ricchissimo ma parliamo di quello che ha chiuso la settimana scorsa ovvero del derby di Milano e di tutti i temi dell'ultimo turno di Serie A il derby non è stata una sentenza perché ripeto il cammino è ancora troppo lungo e ne abbiamo viste troppe in questo calcio nel calcio di questa epoca per poter pensare che qualcosa sia già definito non lo è per l'Inter e non lo è neanche per il Milan però parlavamo di primo vero confronto scudetto e l'Inter lo ha vinto 3-0 di conseguenza diciamo che il messaggio è assolutamente da tenere a mente anche perché l'Inter ha piazzato la sgasata in un momento determinante ha battuto Lazio e Milan in fila tre gol a una e tre gol all'altra aveva già battuto la Juve nel mese di gennaio si è aperto il 2021 e Antonio Conte ha messo i suoi all'assalto li ha fatti proprio volare la giugulare del campionato che è l'unico obiettivo rimasto è un obiettivo che al di là delle dichiarazioni a questo punto è sempre più imperativo l'Inter lo deve vincere questo scudetto perché lo può assolutamente vincere questo scudetto e diciamo che la risposta è sempre più ampia è sempre più rotonda perché in un derby comunque da analizzare da raccontare l'Inter ha vinto dando per la prima volta forse in questa stagione sicuramente la vittoria più piena della stagione forse la vittoria più piena addirittura delle racconte all'Inter perché la dimostrazione è arrivata a 360 gradi guardate anche solo i tre gol sono estremamente esplicativi di questo concetto perché l'Inter è andato in vantaggio subito dopo 5 minuti indirizzando il match e piazzando subito un colpo da knockdown all'avversario con il suo tradizionale football diretto il Milan è uscito un po' troppo valdanzoso nel pressing alto è una caratteristica del Milan ha fatto bene Stefano Pioli a non snaturare la squadra in questo senso però Ternandes li va a prendere con un po' troppa foga Hakimi troppo in alto palla lunga per Lukaku che è incontenibile per chiunque anche se forse un'idea un po' più prudente soprattutto all'inizio poteva esserci quindi football diretto poi Lukaku è molto molto efficace anche tecnicamente nel ritrovare la possibilità di disegnare l'assist Lautaro di testa 1-0 per l'Inter secondo gol il secondo gol è forse il gol più importante di tutti dal punto di vista dell'immagine perché è un gol di costruzione arrivato nel momento in cui l'avversario stava mettendo fuori la testa il Milan all'inizio del secondo tempo ha fatto fuoco e fiamme e questo è un segnale molto importante l'Inter lo ha colpito lo ha mandato ancora al tappeto con un gol con partenza dal basso e questa è una cosa da sottolineare perché specialmente in queste settimane con gli errori di Bentancur contro il Porto l'errore anche del Sassuolo nella partita contro il Bologna è tornata la cantilena della costruzione dal basso che non ha poi tutti questi benefici che ti espone a rischi che è una moda è un'assoluta necessità e l'Inter la squadra una delle squadre più dirette che ci siano lo ha dimostrato bellissima azione hanno toccato palla in nove si è partiti dal basso e si è arrivati a segnare con l'assist di Perisic e il 2-0 di Lautaro e poi il finale in gloria in simil contropiede con la cavalcata solitaria di Lukaku è una partita finita così con anche un risultato che insomma fa abbastanza sensazione nel vederlo per questo vi parlo di vittoria pienissima vittoria totale perché l'Inter ha conquistato questa partita anche dimostrando una sua evoluzione e questo è un messaggio importantissimo per Antonio Conte e per tutto il campionato vanno fatte delle citazioni ovviamente per i grandi protagonisti del derby prima di tutto la coppia la Lula il motore che da sempre è stato l'epicentro di tutte le forze di tutte le possibilità di questa squadra e che è tornata a ruggire in modo in modo detonante perché Lautaro ha piazzato una doppietta che spazza via altri discorsi superficiali da superare e anche da contrastare Lautaro è un attaccante ancora molto giovane per cui è normale che attraversi dei periodi magari di non perfetta continuità ma Lautaro è un attaccante totale è un attaccante elettrico è un attaccante tecnico è un attaccante affamato ed è un attaccante che segna in tutti i modi perché come abbiamo visto nel post partita le statistiche parlano chiaro 13 gol in campionato per Lautaro Martinez 3 di testa 5 di destro e 5 di sinistro poi magari ne sbaglia qualcuno poi magari a volte arriva un poco lucido ma è un attaccante ed è un giocatore che deve ancora completare il proprio percorso di evoluzione visto quello che è già io sono sempre più convinto di quello che vi ripeto da sempre ovvero che Lautaro Martinez da Baglia Blanca diventerà nel prossimo decennio uno degli attaccanti di riferimento assoluto del calcio mondiale e l'attaccante di riferimento nel campionato italiano sicuramente nell'Inter ma probabilmente se parliamo di numeri nove è davvero il riferimento del campionato è Romelu Lukaku capo cannoniere con 17 centri altra cosa che mi piace insomma metterli in una giornata come oggi Lukaku nelle grandi partite non c'è 5 derby giocati da quando l'Inter ha segnato in tutti e 5 è un giocatore che non solo c'è non solo ha numeri che fanno trasalire per quanto sono gonfi per quanto sono grandi ma è anche un giocatore squadra perché oltre a fare un gol alla Lukaku uno di quei gol che veramente se sei tifoso nel derby vedi il tuo centravanti fare un gol del genere salti in piedi dal divano e vai in estasi mistica quasi l'importanza per la squadra come allunga e come riesce a rifinire tecnicamente primo gol come allarga e funziona a livello di sponda secondo gol è veramente la stella polare di questa squadra ed è un attaccante fantastico così come è fantastica questa coppia indubbiamente la coppia d'attacco più integrata più omogenea più sincronizzata del calcio italiano ma non solo anche del calcio internazionale perché se prendiamo i 5 principali campionati d'Europa solo Lewandowski e Müller hanno fatto più gol della Lula che ha quota 30 complessivi 17 Lukaku e 13 Lautaro in campionato è in assoluto il motore dell'Inter però questa sgasata di cui vi parlavo questa accelerazione questo sorpasso netto al Milan è arrivato anche con la crescita della solidità difensiva perché stupivano i numeri difensivi dell'Inter d'inizio stagione adesso sono i numeri giusti difesa che ha fatto una grande partita con la Lazio contro il Milan l'eroe altro sassolino da togliere è stato Samir Andanovic che è un portiere di una certa età che può avere dei passaggi a vuoto che può non essere più strabrillante fisicamente ma che è un portiere che merita il massimo rispetto perché è stato ed è un veterano assoluto del ruolo e un grandioso estremo difensore senza Andanovic il derby sarebbe stato molto diverso perché al di là di quelle tre parate straordinarie in un minuto sui due colpi di testa di Ibrahimovic sul tiro dalla media distanza di Tonali ci sarà anche una parata su Rebic quattro interventi top class di Samir Andanovic che anche sul piano dell'organizzazione del gioco della costruzione dal basso è molto cresciuto con i piedi per cui è una sottolineatura da fare doverosa e sono ancora dei discorsi superficiali da rispedire al mettente Samir Andanovic è un grande capitano per l'Inter ed è un grande portiere però chiudendo il discorso su questa rotonda importantissima vittoria nell'Azzurra secondo me sono due gli aspetti principali da sottolineare per inquadrare il peso di questa leadership e di questo risultato uno ha a che fare con la crescita della squadra che è stata sicuramente temperamentale perché si è visto proprio un ribaltamento fra Milan e Inter nel confronto diretto il Milan e adesso ne parliamo che ha perso le proprie certezze l'Inter che se le è conquistate ma al di là della crescita temperamentale c'è una crescita tecnica chiara della squadra il gol costruito dal basso la varietà di gioco e il recupero di due che erano fuori dai giochi e che adesso possono fare tantissima differenza uno è Perisic che ha fatto l'assist per il secondo gol di Lautaro che come ha detto Conte ha assunto la responsabilità di giocare in questo ruolo e adesso da risposte Perisic è uno che l'anno scorso ha vinto la Champions League giocava nel Bayern Monaco l'anno scorso Perisic avere un acquisto del genere trovato in rosa è indubbiamente un valore aggiunto anche perché permette di sistemare quella che è la principale carenza del roster di Antonio Conte ovvero il laterale di sinistra Perisic può essere un valore aggiunto gigante ma il vero valore aggiunto se parliamo di gioco se parliamo di novità se parliamo di varianti è Eriksen mi hanno mandato sapete io non sono sui social network però i miei amici mi hanno mandato un post su Instagram della pagina Il Quarto Uomo che ho trovato molto interessante indica le statistiche della partita di Christian Eriksen che indubbiamente si è dato una mano da solo perché c'è stato un click mentale da parte di Eriksen e a quel punto Antonio Conte lo ha visto dalla sua parte e lo ha accolto cosa dicono le statistiche dell'eccellente derby giocato da Eriksen parlano di una partecipazione al gioco che è determinante perché 90% di precisione nei passaggi e Eriksen non gioca davanti alla difesa non gioca in zone tranquille diciamo schierato in quella posizione va ad incidere con questo tipo di precisione in zone dove si fanno i gol si costruiscono le azioni pericolose e infatti la palla che dà in profondità il secondario assist per citare una statistica che non esiste nel calcio ma che io sottolineo spesso è la sua sul gol del 2-0 sul gol costruito dall'Inter però le statistiche espresse in questo posto del quarto uomo parlano anche di sei palloni recuperati e qua c'è l'intensità che Eriksen ha trovato si è evidentemente imposto e che gli permette di poter essere oggi un titolare indiscutibile dell'Inter che nel momento in cui è passata dall'avere Vidali in quella posizione all'avere Eriksen guarda caso è lievitata ed è andata prima in classifica e questo è un lavoro da scrivere ad Antonio Conte Antonio Conte è indubbiamente il valore aggiunto è indubbiamente una delle figure che merita di più i complimenti in questo momento perché quando c'è stato da criticare Antonio Conte è stato giusto criticarlo l'uscita dalla Champions League rimane un grande neo ma adesso è il suo lavoro che emerge la costante forza trascinante se il gruppo è cresciuto a livello temperamentale e a livello tecnico e sul gioco è merito dell'allenatore e questo è un allenatore estremamente capace è un allenatore che la squadra te la porta al top dell'espressione con le sue modalità che poi potranno avere dei limiti in certe situazioni però qua non riconoscere la mano di Antonio Conte e la sua incisività sarebbe sarebbe da ciechi oltretutto avete visto proprio quanto pesa per un allenatore come Conte in una squadra del genere avere la possibilità di preparare una partita con una settimana intera l'Inter è fuori dall'Europa e questo non fa piacere a nessuno del mondo Inter però le condizioni sono queste e l'Inter con questo tipo di vantaggio e con la possibilità di giocare solo in campionato ha veramente il proprio destino in mano l'Inter ha preparato il derby in maniera impeccabile e ha anche eseguito perché comunque prepararla puoi anche prepararla ma poi ti mancano magari l'energia o ti mancano magari le prove ripetute per poter applicare veramente sul campo i concetti teorici Antonio Conte con la settimana per preparare la partita diventa diventa l'uomo da battere non voglio dire imbattibile perché ripeto può ancora succedere di tutto in questo campionato però però è così tutte cose che si sono viste chiaramente in casa Inter in questo derby e adesso si deve vedere la prova del 9 proprio sul piano mentale perché ora prima in classifica l'Inter con un vantaggio anche già costruito deve tenere il passo e questo è l'ultimo step da fare i vincenti mantengono la posizione le prossime due partite sono con Genoa e Parma e Antonio Conte ha già alzato la mano dicendo occhio che adesso arrivano le partite che bisogna vincere per forza ed è un'altra cosa rispetto alle partite con Lazio e Milan in cui in cui vai a misurarti con un grande stimolo adesso deve arrivare la mentalità la capacità di essere continui le prossime due partite saranno molto importanti dall'altra parte questo derby colpisce colpisce duro un Milan che a questo punto come vi dicevo prima a differenza dell'Inter si ritrova a doversi a doversi guardare allo specchio a doversi ricostruire io credo che il Milan abbia tutte le possibilità per non abbattersi dopo questa settimana tremenda con la sconfitta di Spezia con il pareggio di Belgrado preso all'ultimo secondo e con questo derby che insomma lascia un bel segno sul volto della squadra però è stata una partita in cui il Milan ha fatto degli errori il Milan ha mostrato delle diversità delle carenze rispetto alla squadra della prima metà di stagione però poi ripeto la reazione all'inizio del secondo tempo è stata qualcosa di significativo e solo le grandi parate di Samir Andanovi ci hanno evitato al Milan di rientrare in partita per cui quello che il Milan deve fare adesso è dare un'occhiata alla classifica non pensare guardo sopra guardo sotto ma valutare la situazione a tutto tondo e ritrovare se stesso ritrovare la propria compattezza di gruppo la propria forza e poi arriveranno di conseguenza la leggerezza il miglioramento di elementi che adesso sono abbastanza impolverati perché il Milan ha anche speso tanto in questa stagione in generale dal post lockdown quello che manca enormemente adesso è l'asse di costruzione perché Benasser ha giocato pochissimo negli ultimi mesi e Cialanoglu da quando è rientrato dal covid è ancora è ancora sgonfio non è ancora il giocatore che riceve palla da Benasser e spalanca l'orizzonte illuminato per il gioco offensivo questo si traduce anche in difficoltà per Zlatan Ibrahimovic che è un po' più isolato e che di conseguenza trova meno ritmo trova meno partecipazione collettiva attorno a lui e infatti il problema del Milan vero in questo momento anche se giustamente più o meno leggo voti negativi al comparto difensivo il Milan ha preso dei gol un po' frutto di disattenzioni ma il problema vero adesso soprattutto il maggior stacco rispetto al Milan di qualche tempo fa riguarda i gol fatti non tanto i gol subiti nelle 12 partite che ha giocato nel 2021 il Milan è rimasto secco quattro volte vuol dire una su tre abbiamo sempre presentato statistiche roboanti sul piano realizzativo per il Milan io credo che sia proprio dovuto a questo sia dovuto al fatto che il Milan non è che ha gli attaccanti che non segnano più è che il Milan arriva in modo diverso arriva meno arriva soprattutto meno meno lanciato in zona di definizione e questo si traduce in vincere molto meno anzi in perdere perché il Milan qualche golletto lo ha sempre preso e in queste 12 partite del 2021 il Milan ha perso cinque volte e questo vuol dire che c'è uno stacco netto ma credo proprio che sia necessario per il Milan non lasciarsi andare perché ci sono ancora tutte le possibilità per un finale di campionato glorioso o comunque di grande soddisfazione per il raggiungimento dell'obiettivo che rimane composto in Champions League ed è comunque un obiettivo grande lo scudetto è diventato più che un obiettivo una possibilità una possibilità concreta una possibilità a cui credere il Milan deve continuare a lottare per lo scudetto poi se non dovesse arrivare una punta di delusione forse anche più di una punta ci sarebbe perché metà campionato il Milan lo ha dominato però però deve ritrovare se stesso senza pensare troppo a obiettivi o a cose varie deve ritrovare la propria fiducia e guardare avanti anche le possibilità che ha in Europa League certo guardando avanti più che il ritorno con la Stella Rossa si guarda la partita con la Roma perché la partita di domenica sera a Roma diventa diventa una bilancia determinante se il Milan dovesse trovare un altro risultato negativo allora le cose potrebbero arrovellarsi in modo molto complicato anche perché se la Juventus stasera vince con il Crotone e poi dovesse vincere anche il recupero con il Napoli se mai si giocherà perché ormai questo dubbio viene che possa anche non giocarsi questa partita che rimane fluttuante e credo che sia una cosa non bella per il nostro campionato però se la Juventus dovesse vincere queste due partite sarebbe a un punto dai rossoneri e questo farebbe sentire al Milan un po' un po' di pressione un po' di acqua alla gola che questa squadra non merita ma ripeto ha tutte le possibilità per tenersi fuori da questa situazione che è indubbiamente fisica ma è anche mentale Roma-Milan di domenica è una partita importantissima anche perché il messaggio lo deve mandare anche la Roma Roma che aveva una grossa occasione ieri sera e che l'ha sprecata per la prima volta in questo campionato la Roma non ha vinto contro una squadra della seconda metà della classifica e adesso va a giocare la prossima partita dopo il ritorno col Braghi in Europa League che insomma salvo cataclismi dovrebbe essere una cosa abbastanza accomodata va a giocare un big match contro una squadra della parte altissima della classifica quando quest'anno non li ha ancora vinti ecco volendola vedere con un po' di ottimismo dall'ottica di Fonseca è arrivato il primo risultato non pieno contro una della seconda metà della classifica potrebbe essere il preludio al primo risultato pieno contro una delle big ovviamente non funziona così né nella razionalità né nel ragionamento né tantomeno sui campi da calcio la Roma ha fatto 0-0 contro il Benevento e ripeto ha sprecato un'occasione perché è vero tante assenze la scomodità dell'Europa League voi guardate i risultati delle squadre che sono state impegnate in Europa League in Italia il Milan ha perso e ha perso malamente con l'Inter il Napoli ha perso e ha perso ampiamente a Bergamo e la Roma ha fatto 0-0 a Benevento per cui l'Europa League di giovedì adesso veramente sfibra veramente stanca anche a livello estero ci sono stati risultati parlando di Napoli il Granada che ha battuto il Napoli ha perso in casa con l'Uesca dopo aver giocato in Europa League e l'Uesca non è una formazione così terribile per cui questa è una situazione da sottolineare perché è un'incidenza chiara però poi sapete quanto io stimi Fonseca quanto io pensi che la Roma sia una squadra forte con tante possibilità e che sia stata criticata ben al di là dei propri demeriti durante la stagione per la prima volta ho avuto l'impressione che il piano partita non sia stato poi così lucidissimo la Roma poteva fare le cose diversamente a Benevento io credo che sì c'è stata la necessità di schierare Spinazzola come terzo di difesa di inventarsi un po' delle cose però visto come andava la partita la Roma poteva passare prima al sistema con la difesa 4 anche perché Spinazzola è stato il migliore in campo di Giallo Rossi e forse averlo avuto un po' più avanti prima senza tutta questa necessità di avere Bruno Perez poteva essere poteva essere un'idea l'ha fatto Fonseca durante la partita ma se l'avesse fatto prima forse le cose cioè la Roma il gol l'avrebbe potuto trovare e poi anche la gestione dei due centravanti io credo che Borca Majoral meriti di essere un'opzione credibile però credo anche che Dzeko sia un centravanti superiore in questo momento a Borca Majoral per cui ok l'alternanza ok anche la possibilità di vederli insieme perché è una cosa alla quale non chiudere la porta però la partita di Benevento era più partita da Dzeko che non da Borca Majoral perché il Benevento è una squadra vera e qua veniamo anche ai meriti delle streghe che se la sono vista brutta per quel rigore assegnato proprio allo scadere del quinto minuto di recupero e poi giustamente tolto dal bar per la posizione di fuorigioco di Pellegrini ma il Benevento che ha 25 punti quindi 10 in più del Cagliari terz'ultimo ed è un risultato stratosferico per un club del genere è squadra che ha spirito è squadra che ha organizzazione è squadra che riflette la mentalità e anche la bravura del suo allenatore il Benevento è una squadra che gioca perché gioca a calcio sempre all'interno della partita ha una mentalità atta a cercare di vincere la partita però è una squadra molto organizzata nel difendersi nell'aspettare è vero che ha subito tanti gol ma questo è un discorso anche di errori individuali di situazioni legate al fatto che il Benevento non ha una rosa di top player per cui i confronti singoli possono portare a degli squilibri e a dei gol subiti ma il Benevento è una squadra che la fa bene la fase difensiva che sa come comportarsi a livello di espressione corale e quindi in una partita del genere la qualità di Gekko per cercare gli interscambi più che diciamo la mobilità l'ampio raggio di Borca Majorale io credo che sarebbero state molto utili per cui forse forse è una mia impressione non lo do come una verità che invece viene riferita dai dati però un piano partita diverso avrebbe potuto dare alla Roma la possibilità di evitare questo mininciampo e di avvicinarsi ancora di più al secondo posto il che è qualcosa di comunque incredibile perché la classifica della Roma rimane veramente incredibile e invece rimane al terzo posto la squadra giallorossa con la prospettiva di questa partita contro il Milan di domenica che sarà un altro passaggio cruciale di questo campionato e rimane in quella favolosa bagarre che è la lotta ripeto per il io continuo a chiamarla per il quarto posto perché penso che Inter Milan e Juventus saranno le prime tre della stagione ora c'è questa posizione un po' traballante del Milan ma io rimango convinto Inter Milan e Juventus dette in ordine sparso saranno le prime tre del campionato sicuramente Inter e Juventus saranno sicuramente mi sembra molto probabile che possano essere nei primi tre posti c'è questa variabile del Milan però c'è questa lotta per entrare in Champions League e direi che sono arrivati dei messaggi piuttosto chiari perché la Lazio ha vinto una partita da squadra sicura ha vinto 1-0 contro la Sampdoria ha risposto subito all'inciampo contro l'Inter che è stato un inciampo più di risultato che non di prestazione perché la prestazione la Lazio a San Siro l'ha fatta però se in un confronto del genere contro l'Inter la prestazione si può guardare in un confronto come quello con la Sampdoria alla vigilia dell'impegno in Champions League con il Bayern Monaco è un confronto in cui devi prendere solo il risultato e il risultato è arrivato perché vi parlo di squadra sicura di squadra che ha la mentalità e anche le modalità di espressione della squadra importante della squadra da Champions perché ancora una volta a determinare il risultato della Lazio è stato il lavoro delle mezze ali Melinkovic-Savic l'azione Luis Alberto la definizione questo vuol dire che la Lazio ha due elementi di valore garantito e continuato in sala macchine con un livello da giocatori di elite del campionato e questo vuol dire che quando hai due valori del genere lì in quella zona del campo che fanno quelle cose l'inerzia la prendi la continuità la trovi quindi io credo che la Lazio abbia il passo e abbia i valori abbia la forza per lottare seriamente per i primi quattro posti e lo ha dimostrato la vittoria sulla Sampdoria mentre la partita fra Atalanta e Napoli finita 4 a 2 una giostra una partita di grande intrattenimento molto divertente bella aperta e spettacolare fino alla fine ha invece detto che c'è una differenza sensibile fra queste due squadre e l'hanno detto le tre partite che si sono giocate in questo periodo fra Atalanta e Napoli ne è emerso un gap l'Atalanta è più forte del Napoli sensazione che si era già avuta nell'andata di Coppa Italia quella finita 0 a 0 e ve l'avevo anche detto se andate a riprendere il video l'Atalanta è più forte del Napoli tre partite l'Atalanta è chiaramente più forte del Napoli perché perché l'Atalanta perché l'Atalanta ha mandato un messaggio non solo al campionato con questo 4-2 ma anche al Real Madrid che ha vinto col Valladolid che è una squadra che ha il proprio status ed è assolutamente da rispettare io quando sento dire che l'Atalanta è favorita contro il Real Madrid è un'altra di quelle cose che mi trovano un filino distante nessuno quando gioca una partita internazionale contro il Real Madrid ma nessuno quando gioca una partita contro il Real Madrid è favorito a priori perché il Real Madrid è il Real Madrid però il messaggio che arriva dall'Atalanta è un messaggio chiaro ai Blancos molto dipenderà anche dalla disponibilità di Benzema per la partita che seguiremo insieme come vi ricordo e io credo proprio che Benzema non ce la farà senza Sergio Ramos senza Benzema il Madrid perde tanto però concentrandoci sulla gara che abbiamo visto fra Atalanta e Napoli l'Atalanta manda un messaggio di enorme valore qualitativo e anche di vitalità offensiva perché in questo momento l'Atalanta ha un campione un campione di livello assoluto che è Luis Muriel Muriel è fiorito e adesso è intrattabile è incontenibile è un giocatore che continua a segnare non a partita consecutiva da titolare con gol non è un revulsivo come dicono in Spagna non è un giocatore che è fantastico quando entra dalla panchina è un giocatore totale è un giocatore che segna sempre titolare subentrato in coppia con un'altra punta da riferimento avanzato Muriel adesso è veramente ingestibile è il giocatore che si aspettava da tanto tempo ha avuto una gestazione diciamo un po' un po' lunga e travagliata ma adesso Muriel è fantastico ha segnato un gol da numero nove devastante e poi la qualità che mette nel suo calcio nei suoi movimenti nei palloni che serve nelle azioni che crea completo fortissimo proprio prototipo di attaccante che a me fa delirare Luis Muriel adesso anche con una continuità notevole in più Zapata Zapata che comunque ha inchiodato la sua testata e paradossalmente i gol di testa non sono poi così frequenti anche per un giocatore del genere quindi una variante in più e le varianti lì davanti sono uno dei dei grandi valori a disposizione di Gasperini Ilicic non è stato un protagonista nella partita contro Napoli io me lo aspetto contro Real Madrid e quindi a questo aggiungiamo anche Ilicic poi la possibilità di avere Miranciuk di avere Pessina trequartista tattico o centrocampista di avere Malinowski giocatore che sta giocando meno quest'anno ma che per me rimane un elemento con un mancino che ti può decidere una partita o può incidere su di essa in qualsiasi momento tante possibilità all'Atalanta è tornato al gol anche Gossens in un momento in cui gli esterni invece sono un filino un problema perché a Tebur non è disponibile ma l'Atalanta può permettersi tante cose nonostante la rinuncia al Papu Gomez a livello offensivo il problema può essere un pochino dietro perché comunque l'Atalanta concede sempre infatti il Napoli in partita ci è tornato due volte con un gol bellissimo di Zielinski su palla filtrante alta di Politano un'azione veramente di grandiosa qualità e poi con con la situazione dell'autogol che ha permesso al Napoli di sperare in una rimonta poi immediatamente negata dalla spietatezza offensiva dell'Atalanta però dietro l'Atalanta di gol ne prende e questo è un problema in Champions League ripeto molto del destino soprattutto della sfida di andata dipenderà dalla presenza o meno di Karim Benzema ma se Benzema dovesse recuperare sarebbe comunque in condizioni molto precarie perché questo aduttore è danneggiato con Benzema l'Atalanta potrebbe avere dei grandi problemi senza Benzema invece l'attacco del Real Madrid potrebbe essere un po' più leggibile però quello che mi preoccupa in ottica confronto di mercoledì è la la regia di due come Tony Cross e Luca Modric che con con la loro sapienza con la loro qualità con le loro palle incrociate con la loro capacità di essere padroni assoluti di una fetta di campo in cui l'Atalanta se perde palla è vulnerabile credo possa credo possa creare dei problemi perché se Cross e Modric riescono ad avere dei palloni puliti non appena il Real Madrid li conquista o comunque dei palloni puliti da verticalizzare sull'esterno con questo lavoro che fa la squadra di Zidane ovvero tenere larghi gli esterni del tridente e far arrivare all'interno i terzini l'Atalanta potrebbe avere delle problematiche sarà una grande partita che vivremo insieme invece parlando del Napoli il Napoli è rotto il Napoli è rotto nel senso che ha veramente troppe assenze per poter essere una squadra competitiva a questi livelli ma anche perché si è chiaramente rotto rotto qualcosa secondo me di molto difficile da riparare in questa stagione e infatti io temo che la prospettiva di qualificarsi alla Champions League sia estremamente difficile per una squadra che poteva addirittura essere protagonista nella lotta a Scudetto per la qualità per la possibilità di gioco che aveva ad inizio stagione e poi ripeto ha fatto ha fatto degli atti di autolesionismo il Napoli a 360 gradi in questa stagione ha avuto dei colpi di sfortuna notevoli perché avere Osimene Mertens anche solo loro disponibili diciamo magari non per tutte le partite ma per l'80% delle partite invece che per il 30 40 non so se ci arriviamo avrebbe fatto tutta la differenza del mondo quindi della sfortuna c'è stata Insigne che ha un problema prima della partita contro l'Atalanta lo sanno che si infortuna e sta fuori ed era forse il giocatore più informe più determinante del momento insomma di sicuro la buona sorte non ha dato una carezza al Napoli e al suo allenatore quest'anno poi però la sfiducia si riflette negli errori individuali che continuano ad essere tantissimi il Napoli ha concesso all'Atalanta dei gol che sono difficili da concedere se voi prendete tutte le situazioni da gol ci sono stati degli errori individuali che non sono nuovi e dall'inizio della stagione che Gattuso è abbastanza condannato per errori anche marchiani che commettono i suoi giocatori e questo potrebbe anche far insomma un po' riconsiderare il discorso fatto sulla qualità della rosa di questa squadra perché forse ci sono giocatori potenzialmente di ottima qualità ma che poi non hanno davvero la capacità di essere qualitativi sul lungo di un campionato cioè commettono degli errori che poi risultano determinanti io credo che per il Napoli sarà molto difficile arrivare fra le prime quattro spero in una sterzata spero nel ritorno di tutti gli elementi al top della forma perché comunque il Napoli a inizio stagione era una squadra molto bella una squadra che si vedeva con grande piacere che avrebbe avuto la possibilità di fare grandi cose con questo allenatore con questo gruppo con questi giocatori la stagione è andata così la possibilità di rimettere le cose a posto c'è tutta però però ecco l'anomalia nell'ultimo periodo del Napoli è stata la vittoria con la Juve a mio modo di vedere non gli altri risultati perché è una squadra che esprime questo senso di tristezza questo senso di difficoltà insuperabile perché è come se camminasse con la testa bassa il Napoli e si vede nelle sue partite quindi per cambiare ci vorrà qualcosa di piuttosto pesante diamo una rapida occhiata anche a quelli che sono stati gli altri tre pareggi di giornata detto appunto che di Fiorentina Spezia e di Cagliari Torino vi ho parlato in un video specifico e ci introduciamo verso quella parte della classifica un pareggio è stato quello fra Sassuolo e Bologna in quello che è stato definito giustamente dal mio amico e stimatissimo collega Massimo Callegari nonché punto di riferimento assoluto il derby della Via Emilia 2.0 perché è il vero derby emiliano di classifica significativa in quest'epoca una partita che secondo me è stata segnata troppo dall'espulsione di Chichi una di quelle situazioni in cui è difficile trovare il modo di dire vabbè c'è una giustificazione no una giustificazione c'è di sicuro però è troppo sfregiata la partita da una decisione del genere che poteva benissimo non essere quella dopodiché il Bologna ha ritrovato il gol di Soriano il Bologna che mancava da un pochino è andato subito in vantaggio su un errore nella costruzione dal basso del Sassuolo ma credo che questa sia la cosa che dà meno fastidio in assoluto a De Zerbi poi Caputo ha dimostrato di essere tornato hanno pareggiato i Nero Verdi è un punto che mantiene il Sassuolo nella propria zona di classifica io credo che un filo di 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 denti stretti dalle parti dello staff tecnico Nero Verde ci siano perché perché si poteva anche fare qualcosina di più però poi ci sono stati tanti problemi a livello di indisponibilità in questa stagione e io credo che il Sassuolo debba pensare a crescere da qua alla fine del campionato a ritrovarsi a confermarsi e a continuare ad essere il Sassuolo con la propria testa con la propria filosofia e con la propria ricerca di gioco senza pensare più di tanto a quello che avrebbe potuto essere e lo stesso discorso vale più o meno per il Bologna che è una squadra sostanzialmente tranquilla che è una squadra che continua a non completarsi del tutto ma è anche una squadra che non fa passi indietro sinceramente quindi è un pareggio che vedo in quest'ottica ve l'ho detto mi è piaciuta tantissimo la partita tantissimo è una partita che ho visto con partecipazione diciamo che mi ha soddisfatto sul piano soprattutto dell'intensità sembrava una partita inglese vecchio stampo forse anche per Marassi forse anche per il contrasto cromatico fra Genoa e Dellas però ho visto una partita bella bella spessa ancora una volta la squadra di Juric ha dimostrato di essere squadra vera non solo sul piano della tattica della compattezza ma anche del valore tecnico Barak per me è un giocatore del quale si parla poco in questo campionato continua ad essere un giocatore estremamente utile estremamente incisivo ha fatto l'assist per il gol di Illich ma soprattutto l'ampiezza di campo in cui Barak lavora gioca da trequartista ma gioca da esterno gioca da mezzala gioca da attaccante perché arriva in area di rigore con grandissima continuità gioca da centrocampista è uno di quei nomi che si fanno troppo poco e quindi voglio in casa Verona fare una riflessione appunto e una sottolineatura sul nome di Barak così come dall'altra parte invece è un po' è un po' triste vedere vedere Lasagna che che non riesce a sbloccarsi e come vi avevo detto è sicuramente un discorso mentale è un giocatore che va in ansia quando ha la possibilità di segnare e questo si riflette nel gol che ha ancora clamorosamente sbagliato nel palo che ha preso è un peccato perché è un attaccante che avrebbe delle qualità per essere un attaccante di valore significativo in Serie A e invece continua nonostante il cambio di maglia ad avere questo tipo di problemi mentre per il Genoa direi meritato per lo spirito il gol di Badel al 95 mi è piaciuta la sua risultanza proprio accurata ancora un risultato positivo che dà continuità al lavoro di Ballardini la classifica del Genoa è invidiabile visto cosa è successo negli ultimi anni anche come era iniziata questa stagione Shomuro ve lo cito tutte le settimane perché è un attaccante che mi piace è un attaccante che mi piace signor nessuno arrivato più che nello scetticismo nell'ignoranza generale di chi fosse Shomurodov perché magari il rostov il calcio russo non viene visto proprio da tutti è invece un attaccante che nonostante grandi difficoltà come l'ambientamento la lingua in un periodo come quello in cui lui è arrivato quindi anche con momenti di isolamento è un attaccante che si sta dimostrando capace utile di valore e adesso ho l'impressione che nella seconda parte di stagione possano anche aumentare il numero di gol di questo giocatore per cui la sottolineatura la faccio volentieri su di lui bella partita mi ha divertito chiudo parlando di quella che era una partita molto pesante e che è stata gettata al vento ancora dal Parma che adesso è a 6 punti dal Torino quarto ultimo e 6 punti sono veramente tanti da recuperare anche perché se non vinci non li riprendi più e il Parma ha fatto un ottimo primo tempo contro l'Udinese avanti 2 a 0 poi si è fatta riprendere e questi sono sono segnali ahimè che cominciano ad essere tanti e cominciano ad essere piuttosto indicativi detto che anche qua non diamo nulla per scontato però però il Parma di terreno ne perde tanto e soprattutto butta via queste occasioni nel parlare di Parma Udinese vorrei soprattutto concentrarmi sui gol subiti da entrambe le parti gol subiti ai limiti dell'inaccettabile una difesa come quella dell'Udinese fatta tutta di giocatori strutturati dovrebbe essere dominante sulle palle aeree invece quanti gol ha preso l'Udinese quest'anno a difesa più o meno schierata su situazioni che potevano essere controllate tantissimi tantissimi quello di Cornelius dopo quanto 2-3 minuti con Bonifazi che guarda il pallone e Cornelius che lo anticipa fa 1 a 0 è un altro di quegli episodi in cui ti chiedi come sia possibile è un discorso di attenzione è un discorso di iniziare la partita ma non neanche di approccio perché l'Udinese ha subito questo tipo di gol in ogni momento della partita e continua a non farmene una ragione perché l'Udinese potrebbe prendere molti meno gol di quelli che ha preso dall'altra parte una squadra come il Parma con la classifica del Parma con un 2 a 0 in casa all'intervallo in una situazione del genere che prende due gol a difesa schierata come li ha presi il Parma nel secondo tempo anche in questo caso si è sempre parlato di problemi offensivi nella formazione prima di Liverani e adesso di D'Aversa tra l'altro ha mosso anche piuttosto forte l'esclusione di Gervinio e Kurtic per scelta tecnica ma qua non è solo una questione di problemi offensivi è una questione evidentemente di poco spessore globale di squadra perché davvero a difesa schierata due gol subiti in questo modo sono molto molto difficili da accettare bene abbiamo parlato di tutta la giornata di Serie A parleremo di tutti i temi della settimana ci rivedremo costantemente quotidianamente per parlare di Serie A Champions League e di tutto il calcio internazionale sempre insieme qui sul nostro canale